un video un po diverso dal solito non la solita recensione di orologi che potete vedere su altri canali ma anche qui su toc quanto piuttosto un video un po più intimo un po più di confidenze tra tra intimi anche se magari lo vedrete in migliaia di persone per parlarvi di un orologio un po particolare il tissot heritage quadrante salmone che ho deciso di mettere in collezione nonostante sia un orologio molto economico che sicuramente in tanti criticheranno ma che ritengo invece un orologino davvero molto simpatico quasi un tuttofare a un prezzo veramente non posso dire ridicolo ma sicuramente molto basso ben al di sotto dei 1000 euro e partiamo col dire che all'interno non c'è un powermatic 80 ma c'è un calibro eta swiss made una delle poche volte che ti so prende una decisione di questo tipo ma c'è un calibro eta un calibro 28 24 per quanto il powermatic 80 sia un ottimo calibro preciso e affidabile ma di sicuro l'eta 28 24 da questo orologio quella marcia in più che giustifica ancora meglio un prezzo di listino già molto basso come sempre però lanciamo la sigla tre secondi e torniamo sul nostro tissot benvenuti o bentornati nella nostra masseria degli orologi per il momento come sapete in fase di allestimento della nuova scenografia per parlare qui su talk di orologi orologeria storia dell'orologeria ma anche di grandi imprese che uomini straordinari hanno compiuto con i loro orologi al polso perché come dico sempre per quanto un orologio possa essere lussuoso o complicato rimane pur sempre un pezzo di ferro a meno che non ci sia una grande storia magari che lo accompagna che possa essere la storia della sua nascita o anche la storia di chi lo ha portato al polso qui su talk parliamo proprio di questo parliamo soprattutto di storie quindi se siete degli appassionati e se vi piacciono le storie vi chiedo di iscrivervi è del tutto gratuito per noi invece è importantissimo grazie in anticipo insomma tissot heritage quadrante salmone un orologio che mi ha colpito immediatamente quando me lo ha spedito stefano patron della gioielleria rosa spina di bergamo partner ufficiale del nostro canale che ha anche prezzi ottimi di grande riguardo soprattutto per gli amici di talk quindi se siete interessati a qualcuno dei loro orologi e anche di tanti brand prestigiosi che stefano tratta all'interno della gioielleria non esitate a chiedere insomma nell'unboxing di aprile e a breve ci arriva il pacco di maggio per fare un nuovo boxing c'era anche questo tissot heritage 1853 quadrante salmone è un orologio che alla fine ho deciso di tenere in collezione a differenza invece di altri orologi come per esempio loris 65 in acciaio e bronzo che avrete visto sicuramente in una recensione precedente e ho deciso di tenerlo un po per il suo prezzo esiguo un po perché non ho begli orologi economici o orologi economici ne ho tanti a quarzo di qualsiasi fascia di prezzo ma un orologio che facesse l'orologio elegante un tutto fare perfetto per molte occasioni a un prezzo veramente molto basso non ce l'avevo e questo ti so che mi aveva colpito sin dall'inizio sin dalla sua presentazione proprio per il suo stile quasi calatrava no ora non voglio essere blasfemo sia mai però ecco questo stile sportivo anche grazie al suo cinturino peraltro di ottima fattura spesso e morbido ma anche elegantino con il suo quadrante salmone e poi indici e sfere nere a me piacciono tantissimo questi contrasti con una qualità costruttiva assolutamente accettabile più che direi ottima sì direi ottima perché accettabile una qualità ottima satinature lucidature insomma non c'è nulla di sbagliato in questo orologio con all'interno anche un calibro degno di questo nome per quanto il power matric 80 dicevamo sia un ottimo calibro preciso e affidabile rimane pur sempre un calibro economico che magari in certe fasce di prezzo qui siamo di poco sotto i 1000 euro con sconto siamo abbastanza sotto i 1000 euro non sempre giustificato a differenza invece di un età 28 24 che per quanto sia un calibro mainstream è diffusissimo e anche economico è anche un calibro swiss made di ottima fattura di grande storia di precisione affidabilità che secondo me da quella marcia in più a un orologio già di per sé ben fatto ed economico il giusto in questo caso il tutto è anche racchiuso all'interno di una cassa molto sottile come dicevo molto ben realizzata ma anche un quadrante ben realizzato per quanto per esempio degli elementi li avrei scelti sicuramente in maniera differente bellissimo il logo tissot heritage così come è heritage proprio questo orologio molto meno bella la scritta cronometer a ore 6 troppo grande inutilmente grande e invasiva per quanto però abbia un significato molto importante perché non l'ho detto prima ma questo età 28 24 non è soltanto un buon calibro swiss made ma è anche certificato cost ebbene sì a poco meno di 1000 euro si compra un orologio con un calibro età certificato cost che vi garantisco e sicuramente lo sapete meglio di me non è assolutamente una cosa comune anzi trovare un calibro cost normalmente richiede un esborso di gran lunga maggiore che già si avvicina alla media alta gamma rolex per esempio da sempre fa vanto dei suoi calibri certificati cost ma per l'appunto è rolex e a fasce di prezzo soprattutto da ultimo ben differenti rispetto al nostro tissot heritage eppure all'interno si sono presi la briga proprio di metterci un età 28 24 certificato cost il che per quanto l'orologio meccanico con tutte le certificazioni che vogliamo non sarà mai preciso quanto ci si potrebbe aspettare è comunque un elemento in più che secondo me rende questo orologio ancora più sorprendente per la sua fascia di prezzo e poi esteticamente gusti soggettivi a parte un orologio che mi ha convinto sin da subito come vi dicevo il contrasto degli indici e delle sfere nere con questo quadrante salmone mi ha convinto immediatamente mi aveva già convinto in foto in realtà al sole mi ha completamente conquistato ecco il motivo per cui ho deciso di tenerlo nonostante sia un orologio economico nella mia collezione e anche un orologio che indubbiamente utilizzerò poco però c'è anche da dire che un orologio di questo tipo che consente di essere indossato in qualsiasi situazione in qualsiasi condizione in viaggio senza patemi senza alcuna paura o timore beh gli dà un valore aggiunto non da poco ed è una cosa che io apprezzo molto negli orologi magari lo si può utilizzare anche in situazioni più informali ma anche per esempio per goderselo in giardino non al mare perché un 50 metri però insomma è un orologio tuttofare un orologio tuttofare che ha anche quel fascino vintage ma soprattutto quell'aspetto elegantino di orologio ben fatto che vi garantisco non passa inosservato e poi dalla sua naturalmente ha anche tanti altri elementi che lo rendono secondo me un orologio molto apprezzabile al di là della sua qualità costruttiva lo spessore di poco superiore agli 11 mm il diametro di 39 mm che è ben realizzato e nonostante sia tutto quadrante in realtà appare perfettamente proporzionato sul polso anche su un polso esile come il mio da 16,5 cm come potete vedere voi stessi. Ora la domanda fatidica di questo video ha senso acquistare un orologio soltanto perché costa poco magari in una collezione importante dove non si sente certamente la mancanza di un elegantino da 6-700 euro con sconto e che insomma non porta nulla di più rispetto alla collezione cioè la domanda delle domande ha senso continuare a spendere e acquistare orologi magari farsi prendere la mano perché costano poco e poi magari anche accumulare una serie di orologi che potevano invece essere sostituiti da un solo orologio ma magari più prestigioso più blasonato insomma veramente la domanda da un milione di dollari. Io la mia personalissima risposta a questa domanda naturalmente ce l'ho e la potete vedere voi stessi e cioè sì ha senso quando però nella mia personalissima visione della collezione dell'orologeria in generale si siano già raggiunti degli obiettivi che ci si era prefissati. Mi spiego meglio. Un conto è acquistare compulsivamente orologi magari economici perché fa gola e perché è più facile spendere poco alla volta piuttosto che fare una spesa importante tutta assieme piuttosto appunto che mettere da parte con pazienza nel corso dei mesi o degli anni per poi alla fine arrivare all'orologio che tanto si desiderava. Io sono per questa seconda visione cioè sono per scegliere e raggiungere degli obiettivi che ci si era prefissati per quanto difficili sempre che siano obiettivi fattibili. Il Nautilus di Patrick Philippe non ce l'ho, non ce l'avrò mai piuttosto che accumulare compulsivamente ma sono anche dell'opinione nonostante sia stata criticata questa mia scelta soprattutto dagli amici più intimi sono dell'opinione che alcuni orologi per quanto economici abbiano il loro spazio all'interno di una collezione per quanto possa essere blasonata o importante perché molti orologi economici hanno il loro preciso scopo, il loro preciso spazio come per esempio questo Tissot che oltre a costare poco e a portare dei contenuti tecnici per me rilevanti soprattutto visto il listino è anche un orologio davvero apprezzabile, ben realizzato, ben fatto e che indubbiamente anche in una serata un po' più formale o magari utilizzandolo e godendoselo senza nessun patema in qualsiasi condizione per me è un orologio che dà soddisfazioni. E poi sarà 50 metri ma la carica senza dover espitare ogni volta la corona per quanto sia automatico piace. Insomma avrete capito che non sono legato al blasone o al costo di un orologio credo che in più di tre anni di video qui su Toc qualcosa si sia percepito per quanto non abbia mai nascosto le mie preferenze rispetto ai più blasonati e soprattutto sportivi come Rolex o Omega ma soprattutto i grandi indipendenti come per esempio Chaikin di cui per fortuna ho quell'edizione limitata in collaborazione con Louis Herard ma nonostante questo dicevo sono anche dell'idea che alcuni pezzi per quanto economici possano in realtà avere il loro degno spazio all'interno di una collezione che non necessariamente deve essere sempre tutta costosa. Insomma di sicuro ci si può divertire come direbbe qualcuno anche con orologi più economici anche perché costano poco e li si può usare senza fatemi soprattutto se portano qualcosa di interessante come questo tisso. Bene la nostra recensione tra appassionati anonimi direi che può finire qui se volete iscrivetevi al nostro gruppo di recupero trovate il link alla nostra chat telegram nella descrizione di questo video io vi ringrazio per essere arrivati fin qui e come sempre vi do appunto a vetto ad un nuovo video sull'orologeria qui su Toc. Ciao